Il vento a Sarno è terribile, insomma, in questi ultimi due anni ci sono state delle tempeste ventose che hanno determinato danni enormi e quindi chiaramente ho ritenuto opportuno attraverso un'ordinanza chiudere le scuole oggi perché già venivano segnalati dei danni e quindi abbiamo fatto sì che in mattinata l'ufficio tecnico potesse fare i giusti sopralluoghi per intervenire e per riparare quello che già purtroppo abbiamo registrato come danni ai vetri, a qualche porta, insomma, gli alberi che stanno nelle aree scolastiche che vanno probabilmente ancora meglio potati e quindi, insomma, tutte queste cose qua le abbiamo fatte in questa giornata, in questa mattinata, in modo tale da poter vivere tranquillamente ma soprattutto dare garanzie alle scuole di sicurezza, insomma, ai bambini, ai ragazzi e anche al corpo docente.